Boschi sterminati di conifere si stendono fino ai piedi dei ghiacciari cime in ospitali avvolte dalle nuvole modellate da un vento che pace non dà mai spettacolari piramidi di neve cascate d'acqua nel vuoto appese e noi due qui a goderci il panorama vestiti come astronauti sulla luna che veniamo a sciare ogni fine settimana zigzaggando tra i boschi a fare il pieno d'aria pura ma in questo silenzio bianco e gelato ci esplode il cuore e ci manca il fiato dimmi cos'è cos'è questa paura che ci sorprende in mezzo alla natura antica come il mondo crudere misteriosa da cui ci siamo staccati convinti di esserci finalmente liberati i vaternati e cresciuti a Milano viviamo in una fortezza e non lo sappiamo ci muoviamo tranquilli e con disinvoltura tra strutture cacciare scale mobili e spazzature che fantastiche lunghi viaggi e grandi imprese ma ci stacchiamo a stare via un mese ecco cos'è cos'è questa paura che ci sorprende in mezzo alla natura che ci riporta indietro a un'era primordiale che quando per farci coraggio stavamo attorno al fuoco guardando il cielo a cantare un'era come what potine Dimmi cos'è, cos'è questa paura Che ci sorprende in mezzo alla natura Di fronte a questo tipo, noi due che cosa siamo Che per farsi il coraggio si cercano con la mano Si cercano con la mano Che per farsi il coraggio Che per farsi il coraggio Che per farsi il coraggio Che per farsi il coraggio